Siete pronti per una storia eccitante? Questa vi piacerà tanto. Vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou. Ah, sì! La storia di oggi si intitola Caillou e il parco dei divertimenti. Sì! Un giorno a Teletabilandia, Po ricordava la neve. Ciao! Siamo il Teemo Mizuki! E stiamo preparando auto umi per una gr...